Ciao, bentornato sul mio canale e in questo video vediamo un classico della canzone napoletana ma forse parli troppo napoletano io sono spontaneo ma certe gente non ha idea che significa napoletano c'è la canzone napoletana la città di Napoli ha i suoi problemi ma c'ha delle cose grandiose dei monumenti, dei paesaggi, dei posti povera Italia lasciamo stare sesta corda in Re scusate tu che non chiede io l'avevo proposta avevo fatto un video che nei motori di ricevi su google con bare come primo proprio era in E minore questo è in Re minore come ho trovato l'arrangiamento cioè ho trovato uno spartito su una raccolta 100 canzoni di Napoli scritta in Re minore e si pressa per con la sesta corda in Re Re minore trovi come sempre l'arrangiamento questa volta sul Patreon sotto il video sotto il video perché certo dici ma dove è? sotto c'è una descrizione c'è un link che va al Patreon il Patreon clicca e ti spiega tutto è semplice c'è una chi è iscritto riceve decendinaia di queste tab ho fatto questo arrangiamento pur essendo due pagine cioè qua sono tre pagine però l'ho sintetizzato allora in Re minore qua l'ho sintetizzato harmonica sti via A presto. 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 Ho fatto un'improvisazione sullo spartino. Da queste due pagine puoi farne quattro, nel senso che bisogna ripeterlo e lo fai variando, armonizzando diversamente, usando altri accordi. A me piace molto, gli arrangiamenti miei nascono da una base jazz, di accordi di armonizzazione jazz. A presto. Sol minore 6, io uso il semi diminuito. Sostituzioni. Un po' ci inserisco un mi settima. Io ti invito a iscriverti al sito giambirobuno.it. Molti non sono iscritti al canale. Al canale è gratuito. Iscriviti gratuitamente al canale. L'80% non è iscritto. Cioè gli compare il video. Sotto il video trovi delle lezioni interessanti di armonia. Sempre ti puoi iscrivere. Cioè purtroppo se non ti iscrivi non entri nel processo. Capisci? Nel senso che come fai a cercare su un milione di video. Iscrivi se ti interessa l'armonia questo fatto di elaborare. Brani che sono in effetti questi brani. Se lo vedi è semplice. Re minore. La settima. Re minore. Sol minore. Sono 3-4 accordi. Una melodia bella. Sono dei piccoli capolavori. Dei capolavori delle poesie. Queste qua. Qui trovi un link dove trovi le lezioni di armonia con il manuale sotto il video. Poi c'è il manuale su Amazon. Io ti ringrazio per essere stato con me. Puoi visitare i video che seguono. Ciao. Alla prossima.